In matematica, tra le funzioni hanno grande importanza le funzioni numeriche, cioè quelle funzioni nelle quali dominio e codominio sono insiemi di numeri. Un caso particolare di grande interesse è quello delle funzioni reali di variabile reale, le funzioni da R in R. Ecco alcuni esempi di come può essere espressa una funzione numerica. La formula che descrive la funzione è chiamata espressione analitica. x è detta variabile indipendente. Indipendente perché si può scegliere arbitrariamente un valore e a tale valore corrisponderà un valore di y, che invece è chiamata variabile dipendente. L'espressione analitica ci dice quali operazioni dobbiamo eseguire sulle variabili per ricavare i valori numerici di nostro interesse. Possiamo esprimere una funzione in due diverse forme. La prima è quella esplicita ed è del tipo y uguale f di x. Si chiama esplicita perché viene, appunto, esplicitata la y. La seconda è invece la forma implicita, nella quale abbiamo l'uguaglianza a zero di un'espressione che dipende dalle due variabili. Le funzioni a seconda della loro espressione possono essere classificate in funzioni algebriche e trascendenti. Sono algebriche le funzioni che coinvolgono soltanto le quattro operazioni, la potenza e l'estrazione di radice. Si dividono in funzioni razionali intere, dei semplici polinomi, razionali fratte, rapporti tra polinomi e irrazionali, nelle quali è coinvolta l'estrazione di radice di un qualche indice. Le funzioni trascendenti sono quelle che coinvolgono operazioni che esulano da quelle di cui abbiamo parlato. Parliamo quindi di funzioni esponenziali, logaritmi, funzioni goniometriche o anche iperboliche. Tutte queste funzioni permettono di modellare i problemi del mondo reale, riveste grande importanza poter visualizzare la relazione che intercorre tra le due variabili. Per questo ci serviamo del grafico della funzione, cioè l'insieme delle coppie ordinate xfdx, sotto insieme del prodotto cartesiano di r per se stesso. È possibile rappresentare il grafico sul piano cartesiano. Prendiamo un caso molto semplice che sicuramente tutti conosceranno, una retta. Questo è il grafico della retta y uguale x più 3. Ogni punto di questa retta, sappiamo che ce ne sono infiniti, deve soddisfare l'espressione della funzione. Questo vuol dire che scegliendo un valore per la x, per esempio 0, otterremo un corrispondente valore della y, in questo caso 3. La coppia ordinata di questi valori ci dà le coordinate di un punto, il punto A. Questo punto appartiene al grafico della funzione. Esistono delle tecniche avanzate che ci permettono, in casi più complessi, di ricavare le informazioni per tracciare il grafico di una funzione analizzando la sua espressione analitica. Abbiamo detto in precedenza che x è la variabile indipendente e che possiamo scegliere arbitrariamente dei valori per trovare un corrispondente valore di y. I valori che possiamo scegliere ricadono in quello che viene chiamato dominio naturale di una funzione. Questo è il più grande insieme di valori di x che ci permettono di ottenere un valore di y tramite l'espressione analitica della funzione. Facciamo subito un esempio e prendiamo in considerazione una funzione razionale fratta nella quale la x compare al denominatore. In questo caso non possiamo scegliere qualunque valore di x perché, ricordando le famose frazioni algebriche, dobbiamo escludere i valori che annullano il denominatore. Sappiamo benissimo che la divisione per 0 non ha significato. Dobbiamo imporre la condizione denominatore diverso da 0, quindi x più 1 diverso da 0, da cui ricaviamo x diversa da meno 1. Dovremo escludere questo valore dal dominio della funzione. Per scrivere in linguaggio matematico il dominio possiamo servirci di diverse notazioni. Possiamo scrivere così, indicando l'unico valore escluso dall'insieme dei numeri reali. Possiamo usare anche la notazione ad intervalli. In questa notazione le parentesi tonde ci indicano che gli estremi degli intervalli non sono inclusi. Ricordiamo che il dominio è conosciuto anche come campo di esistenza. Quando cerchiamo di ricavare informazioni per tracciare il grafico di una funzione, la ricerca del dominio è sempre il primo passaggio. Un altro passaggio importante consiste nel ricavare quelli che sono gli zeri della funzione. Si definisce 0 di una funzione ogni valore di x che, sostituito nell'espressione analitica, dà come risultato un valore di y pari a 0. Gli zeri si trovano risolvendo l'equazione f di x uguale 0, in sostanza ugualiando a 0 l'espressione della funzione. Da un punto di vista grafico, gli zeri corrispondono alle intersezioni della curva con l'asse delle x. Vediamo subito un esempio e prendiamo in considerazione questa funzione, quadratica. Sappiamo che un'espressione di secondo grado rappresenta una parabola. Per trovare gli zeri, le intersezioni con l'asse x, dobbiamo risolvere l'equazione f di x uguale 0. Questa corrisponde ad un'equazione di secondo grado. Le sue soluzioni sono x uguale 1 e x uguale 2. Ciò, da un punto di vista grafico, vuol dire che la parabola tocca l'asse delle x nei punti di ascissa 1 e 2. Una funzione può avere un qualunque numero di intersezioni con l'asse x, anche infinite intersezioni, o può non averne nessuna. In quest'ultimo caso, il suo grafico non toccherà mai l'asse delle ascisse, e giacerà tutto sopra o sotto l'asse delle x. Un'altra importante informazione che si può ricavare dall'espressione della funzione è il segno. Studiare il segno significa trovare per quali valori di x il grafico della funzione giace nel semipiano delle ordinate positive, sopra l'asse delle x, o nel semipiano delle ordinate negative, sotto l'asse delle x. Per studiare il segno di una funzione dobbiamo risolvere la disequazione f di x maggiore di 0, o y maggiore di 0. Troveremo gli intervalli numerici nei quali la funzione è positiva, e, di conseguenza, anche quelli dove è negativa. Vediamo un breve esempio, che riguarda la parabola già trattata parlando degli zeri. Per trovare il segno dobbiamo risolvere una disequazione di secondo grado. Questa è verificata per x minore di 1 o per x maggiore di 2. Per rappresentare questi risultati possiamo ombreggiare sul piano cartesiano le regioni nelle quali non ci saranno punti del grafico. Questo giacerà nelle altre zone. Parliamo ora di alcune proprietà che può avere una funzione numerica, a partire dalle simmetrie. Se il dominio di una funzione è tale che se x appartiene ad esso, anche l'opposto di x, quindi meno x, vi appartiene, la funzione potrebbe essere pari o dispari, e il suo grafico potrebbe essere simmetrico. Attenzione perché questa è una condizione necessaria ma non sufficiente. Questo vuol dire che le funzioni il cui dominio non rispetta questa caratteristica non sono di certo simmetriche e le funzioni il cui dominio rispetta questa caratteristica non sono per forza simmetriche. Definiamo funzione pari una funzione per la quale f di meno x è uguale ad f di x. Il suo grafico sarà simmetrico rispetto all'asse y, simmetria assiale. Definiamo funzione dispari una funzione per la quale f di meno x è uguale a meno f di x. Il suo grafico sarà simmetrico rispetto all'origine o, simmetria centrale. Quindi, per capire se una funzione è simmetrica, dovremo sostituire meno x al posto di x e vedere cosa ne viene fuori. Vediamo subito un esempio. Sostituiamo meno x al posto di x e svolgiamo i calcoli. Ciò che si ottiene è x alla seconda, cioè f di x. La funzione, che ha per dominio tutti i numeri reali, è pari e il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, come possiamo osservare dal disegno. Un'altra importante proprietà di una funzione è la crescenza o decrescenza, quindi la monotonia. Una funzione è crescente in un intervallo sotto insieme del suo dominio, se per ogni x1 e x2 dell'intervallo, se x1 è minore di x2, allora f di x1 è minore o uguale a f di x2. Ed è decrescente se la seconda disuguaglianza vale col simbolo maggiore uguale. Se le seconde disuguaglianze valgono senza l'uguale, la funzione si dirà strettamente crescente, o decrescente a seconda del caso. Le funzioni crescenti e decrescenti si definiscono anche monotone. Capire se una funzione è crescente o decrescente non è sempre facile, ed esistono tecniche avanzate di analisi matematica che ci permettono di analizzare la monotonia di una funzione. In questa lezione vediamo due esempi nei quali applicheremo un semplice procedimento di ricostruzione della funzione, che ci permetterà di capire se questa è crescente o decrescente. Non sempre è possibile farlo, soprattutto se l'espressione della funzione è molto complessa. Partiamo dalla prima disuguaglianza della definizione, x1 minore di x2. Il nostro compito è quello di ricostruire, tramite semplici operazioni, l'espressione della funzione in entrambi i membri. Più semplice a farsi che a dirsi. Iniziamo moltiplicando per due entrambi i membri. Questa operazione, per le regole sulle disequazioni, non cambia il verso della disuguaglianza. Poi sommiamo tre ad entrambi i membri. Ora è evidente che primo e secondo membro sono f di x1 e f di x2. Allora, partendo da x1 minore di x2, abbiamo ottenuto f di x1 minore di f di x2 e possiamo affermare che questa funzione è strettamente crescente. Vediamo anche il secondo esempio. Osserviamo che questa funzione è definita quando il suo radicando è non negativo, quindi per x maggiore o uguale a zero. Partiamo sempre da x1 minore di x2. Prendiamo la radice di entrambi i membri. Essendo x1 e x2 maggiori di zero, dato che appartengono al dominio, ed essendo la radice di indice pari, prendendo la radice otterremo una disuguaglianza dello stesso verso. Ora ci manca da moltiplicare entrambi i membri per meno 1. Attenzione perché questa è un'operazione che varia il verso della disequazione. Abbiamo ottenuto f di x1 maggiore di f di x2. Allora questa funzione sarà strettamente decrescente, dato che da x1 minore di x2 siamo giunti a f di x1 maggiore di f di x2. Altra caratteristica che può avere una funzione e che rende la sua analisi più semplice è la periodicità. Una funzione si dice periodica di periodo t maggiore di zero se f di x è uguale a f di x più kt per ogni k intero. Il più piccolo t che verifica questa uguaglianza si chiama periodo principale. In termini di grafico, se una funzione periodica assume gli stessi valori in ogni intervallo di ampiezza t e, come conseguenza, il suo grafico sarà identico in ognuno di questi intervalli. basterà analizzarla su uno solo di questi intervalli e poi riprodurre il suo grafico tale e quale anche negli altri. Fra le proprietà di una funzione numerica meritano un discorso a parte quelle di suriettività e iniettività, che sono di fondamentale importanza nel concetto di funzione inversa, e ne parlo in questo video. e se vuoi seguire altre lezioni come questa iscriviti al canale. Buon proseguimento e buono studio!